Nuovi scenari si aprono a seguito delle perquisizioni che in settimana hanno visto protagonista il comune di Pozzuoli. Alla base dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli, coordinata dai PMI Gloria Sanseverino e Giussi Loreto, ci sarebbe infatti l'intercettazione di un colloquio tra due affiliate al clan Logobardi-Beneduce, ben riassunta nelle parole «Sopra al comune comandiamo noi, sappiamo da chi andare». L'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei due dirigenti comunali Giuseppe Gaudino e Luigi Salzano, accusati di turbativa d'asta e corruzione con l'aggravante del favoreggiamento camorristico, è incentrato sulla gestione degli appalti e i lavori pubblici degli ultimi anni. Tra questi anche la spirale d'acciaio in Piazza del Ricordo per le 40 vittime puteolane morte nella tragedia di Monteforte Irpino, il parcheggio di via Antonio Pio e i lavori della scuola Giacintodiano. Giovedì e mattinata ci sono state nuove acquisizioni di atti amministrativi da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli, capitanata da Elio Norino, tornati nuovamente alla casa comunale del rione Toiano. È forte l'ipotesi che vede il noto clan puteolano pilotare alcune gare d'appalto e ottenere lavori pubblici attraverso i funzionari comunali a capo del settore lavori pubblici. E in merito alle perquisizioni avvenute nel Comando di Polizia Municipale, sono stati richiesti da parte dei carabinieri i turni dei vigili urbani di quattro giorni del 2014, nei quali si sarebbero verificati gli atti della presunta collusione tra macchine amministrative e camurra. È in fase di accertamento anche la nomina Comandante della Polizia Municipale di Carlo Pubblico, al quale mancherebbe una laurea in giurisprudenza o scienze politiche. Immediata la sua replica, il Comandante è laureato e dirigente al Comune di Pozzuoli dal 1979 e il suo curriculum è in linea con la funzione di capo dei vigili. La tensione è alta intanto tra i consiglieri comunali. C'è l'ipotesi di dimissioni per evitare un probabile insediamento della Commissione d'Accesso e lo scioglimento anticipato del Consiglio. Dimissioni in massa porterebbero invece al voto anticipato rispetto alla scadenza del 2017. Mancano tuttavia dichiarazioni ufficiali in merito.